Ciao ragazzi, questa marca già la conoscete perché vi ho fatto vedere un po' di volte qualche cosa Allora hanno aperto in Corso Buenos Aires, per quanto riguarda l'inizio intendo dalla fermata rossa Porta Venezia E c'è quasi all'inizio questo negozio proprio di questa marca Io l'ho trovato chiuso, quindi questa roba che vi faccio vedere l'ho presa alla Upim che c'è più avanti che vende anche questa marca Solo che se andate in quel lato trovate di più E ho preso questo bellissimo orecchino per Natale, vedete, con tutti i fiocchetti che si fanno a Natale E costa 8,99 euro Poi Ho preso tutti questi Ed è 9 paio di orecchini La Renna Questo Il regalo, il cappello, la peludinata La calza e le palline sotto E costano 16,99 euro Poi Ho preso anche questi, vedete, questo Poi questo l'angioletto Joy, che vuol dire felicità Il pupazzo di neve Il pupazzo di neve, l'albero di Natale Queste costano 9,99 euro Vedete il prezzo Poi, 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 poi Questo costa però sono 1, 2, 3, 4, 5 Queste però sono 20 paia di orecchini Questi sono molto semplici, poi vedete c'è il guanto Il fiocco di neve, la stella Le decorazioni, questo qua è l'albero di Natale Poi abbiamo la Renna Il pupazzo di neve Lo zuccherino L'omino Di zenzero Babbo Natale Joy La calza I guanti Il regalo E le palline di Natale E questo costa 19,99 euro Vedete? Qua ci sono vari prezzi Che riguardano Dove si vendono Vedete? Questo è il prezzo CH in franchi svizzeri Questo 18, se non le 18 sterline Così perlomeno Dovunque vadano questi Ci hanno tutto il prezzario direttamente E così Fanno anche bene Sinceramente Quindi diciamo che per questo Li apprezzo Così posso sapere Negli altri paesi Quanto vado a spendere Per lo stesso prodotto E credo che In quel negozio della Della Crest Ci andrò a vedere E con questo è tutto Vi saluto Ciao Alla prossima Alla prossima Grazie.